Musica Calcio Serie D con il turno infrasettimanale, il Trestina e 9 ferma la San Giovannese sull'1-1 mentre crolla il Villabiaggio a Montevarchi, in gol anche l'ex Rosso Blu Schiaroli Vole idea 2, test match per la Bartocini Perugia che prepara il debut in campionato d'inizio ottobre 4 set profiqui contro San Giustino Non si spegne l'eco della grande domenica di motori al Misano World Circuit con il MotoGP che ha richiamato oltre 158 mila tifosi nel weekend Buonasera, il TG Sport con il calcio in apertura, turno infrasettimanale per la Serie D con due umbre impegnate nel pomeriggio è quasi un'impresa, quella del Trestina che ferma in 9 la San Giovannese finale 1-1, anzi a rammaricarsi per il pari è proprio la squadra bianconera che nonostante il Rosso a Ridolfi al 41esimo del primo tempo va in rete nella ripresa con l'Akeb e all'ottavo dalla fine lo stesso giocatore viene a sua volta espulso e in 9 gli altotiberini subiscono il pari toscano solo all'ottantonesimo l'ottantanovesimo con la rete di Camilli cade invece pesantemente il Billabiaggio a Montevarchi 0-3 con la squadra di Cocciari ridotta in 9 addirittura già dal decimo del primo tempo per le espulsioni di Curti e Ubaldi e poi l'ex Tomassini ad aprire la serie di gol a favore dei rosso-blu locali con il risultato arrotondato da Rossetti e dall'ex Eugubino Schiaroli stasera in campo nel posticipo al Buitoni di Sansepolcro contro il Forlì dell'altro ex Ferri Marini in classifica capolista solitaria a 9 punti è il Lantigione e segue a 7 il Rimini mentre a 6 punti resta fermo il Villabiaggio il Trestina sale a quota 4 in casa Gubbio e siamo in serie C rosso-blu al lavoro con una doppia seduta per preparare la gara di domenica al Barbetti contro la Samb domani la partitella infrasettimanale darà indicazioni ulteriori a Cornacchini costretto però di sicuro a fare a meno di Dierna a Piedato, Valagussa e Malaccari infortunati proprio Malaccari si è sottoposto oggi alla risonanza magnetica per verificare le lesioni subite per il trauma al ginocchio destro patito durante la gara di domenica non si conoscono ancora gli esiti anche se i timori per un lungo stop restano concreti parliamo di volley con il test match che ieri sera la Bartocini Perugia ha sostenuto al Pala Evangelisti come tappa di avvicinamento al campionato di A2 femminile 4-7 profiqui contro San Giustino vediamo e sentiamo le interviste al patron Bartocini coach Bovari e la giocatrice Barbolini si chiude con una vittoria netta il primo test match della Bartocini gioiellerie Perugia che dal prossimo 8 ottobre esordirà nel campionato nazionale di pallavolo di serie A2 femminile ieri sera le magliette nere del coach Fabio Bovari hanno affrontato sul parquet del Pala Evangelisti il San Giustino formazione di serie B1 4-7 profiqui per rodare un gruppo in gran parte rinnovato che nel ruolo di matricola proverà a conquistare intanto una tranquilla salvezza ma anche a regalare al pubblico perugino soddisfazioni dopo l'atteso ritorno in serie A della pallavolo del capoluogo era importante per noi comunque capire a che punto siamo in questa preparazione e quindi penso che abbiamo fatto molto bene loro sono un'ottima squadra in una categoria inferiore ma comunque noi siamo una squadra completamente nuova e dobbiamo ancora capire come funzioniamo insieme e direi che è andata molto bene siamo molto contenti e soprattutto entusiasti di aver riportato la serie A Perugia e quindi sappiamo che abbiamo anche l'appoggio della città e insomma siamo molto contenti non vediamo appunto l'ora di iniziare il campionato abbiamo vinto in scioltezza anche se ancora noi abbiamo solo due settimane di preparazione e San Giustino ne ha una in più quindi ha cominciato una settimana prima siamo veramente agli inizi della preparazione quindi si sono già viste buone cose anche se ancora c'è tantissimo tantissimo da lavorare è una squadra che è tutta da assemblare è tutta da affinare i meccanismi di gioco perché comunque abbiamo rinnovato quasi tutto il roster degli atleti quindi abbiamo rimasto solo due atleti della stagione appena passata quindi c'è sicuramente da lavorare e da faticare molto ancora dobbiamo prendere confidenza un attimo con il terreno di gioco con i sistemi che sto proponendo alla squadra però tutto quello che abbiamo provato più o meno è stato rimodellato in campo la squadra pernea su tutti i giocatori che abbiamo quindi si sono mosse bene tutte quante Siamo ora al capitolo motori non si spegne l'eco della grande domenica di emozioni al Misano World Secuit Marco Simoncelli di proprietà gubina con la MotoGP che ha richiamato oltre 158.000 tifosi nel weekend la pioggia e l'assenza di Valentino Rossi non hanno fermato la passione per la velocità sulle due ruote vediamo La passione batte la pioggia e il Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini manda in archivio la sua seconda migliore edizione di sempre praticamente in linea con quella record dello scorso anno Il dato ufficiale 158.263, 158.396 nel 2016 gli spettatori a Misano World Circuit venerdì 20.278, sabato 41.661, domenica 96.324 ai quali si aggiungono gli 11.200 di giovedì che cresce come una giornata di grande significato per il paddock La valutazione generale sui numeri e sul profilo della domanda è di una crescente preferenza per le tribune praticamente tutte sold out mentre la leggera flessione del pubblico sui prati è certamente da ricondurre alle previsioni meteo e alla pioggia caduta oggi oltre che naturalmente all'assenza forzata di Valentino Rossi Da rimarcare l'appil commerciale dell'evento fattore molto significativo e in costante crescita rispetto alle precedenti edizioni a questo dato si aggiunge il grande successo del palinsesto di The Riders Land Experience con 35 eventi sul territorio dal 1 settembre che grazie all'impegno di amministratori ed operatori hanno ulteriormente ampliato l'offerta a vantaggio dell'industria turistica Il bilancio dell'edizione 2017 è largamente positivo dal 1 settembre per 10 giorni la MotoGP ha offerto al territorio una straordinaria opportunità di attrarre appassionati da tutto il mondo confermato la capacità di creare un clima di accoglienza gioiosa e un profilo organizzativo di eccellenza Meraviglioso e apprezzato da tutti l'effetto prodotto dall'intervento di personalizzazione delle vie di fuga magistralmente studiato da Aldo Drudi col quale ci siamo confrontati in questi mesi intervento capace di unire pista a territorio per affermare un prodotto turistico potente redditizio proprio quello che volevamo è chiaro che una bella giornata di sole avrebbe ulteriormente saltato tutto ciò spiace per il disagio sofferto dal pubblico ma il bilancio complessivo è di piena soddisfazione e premia investimenti e sforzi compiuti i promotori del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini ringraziano in una nota tutti coloro anche moltissimi volontari che a vario titolo hanno lavorato per il successo di un evento di profilo mondiale un plauso particolare alle forze dell'ordine per l'impegno e la professionalità profussi sul territorio in una giornata così impegnativa Sono Tommaso Catorci e Maurizio Colizzi i vincitori del secondo torneo Città di Bastia che ha visto la partecipazione di ben 228 atleti nel tabellone di terza categoria il giovane portacolori della Junior ha superato in tre tirati set il più esperto collega di circolo Giulio Caporali mentre nel torneo LIM Colizzi ha avuto ragione di Roberto Nuti del Cittigubbio con un doppio 62 Alessandro Siena, Country e Simone Orfeo Chiugiana hanno vinto le categorie rispettivamente riservate al NC e alla quarta categoria alla premiazione erano presenti anche l'assessore allo sport del comune di Bastia Filiberto Franchi e il presidente della FIT Umbria Roberto Carraresi Si chiude qui lo sport grazie per averci seguito buona serata grazie per averci seguito